Si vede che non ci sei fare con questo gioco Deve insegnarmi Insegnarmi a giocare Non è impossibile Buonanotte Sveglia! No! Due modder, due dom Due modder, soltanto due Rukido Aga, il re degli insetti Rex, il più grande domatore di dinosauri Sei caduto nella mia trappola Ma il tuo cervello da dinosauro non poteva immaginare Il mio vortice si attiva Ha bloccato Re Rex Il mio insetto della foresta si trasformerà in un insetto laser corazzato Attacca! Rukido Aga, che quindi diventa il nostro nuovo campione Maximilian Pegadus! Grazie Che cosa conterrà? Video Buongiorno, giovane Yugi Magia Cosa? Cattura Draghi E imprigionare quella bestia Cosa potrebbe succedere se pescassi una nuova carta dal deck Senza nemmeno guardarla Il mago nero Mago nero! Attacco della magia nera Il mago nero è una delle carte magiche più forti No! Attacco della magia nera Eschevocato! Attacca! Posso convincere chiunque a sottostare alle mie regole Yugi! Yugi!